teo siamo a pavia a fare siamo a pavia maccheronare pasturiamo coi maccheroni peschiamo coi bigattini e prendiamo i barbettini molto benissimi ne ha incannato uno fatturazione tranquilla sono lavati i piedi molto bene adesso faccio vedere anche i maccheroni sono dentro le secche i maccheroni vado a vedere ma non c'è ragù ci sono i bigattini prima libero poi vado a far vedere i maccheroni eccolo ecco qua i maccheroni i famosi maccheroni puntata speciale che il maccherone sia con te